Il 31 ottobre si tornerà al voto per eleggere il nuovo consiglio provinciale della BAT e delle tre liste presentate alla provincia nei giorni scorsi, una di area di centrodestra insieme per la BAT, una che fa riferimento al governatore Michele Emiliano, fronte democratico per la BAT e una che porterà il nome del Partito Democratico, è stata esclusa la lista fronte democratico. Al momento non c'è una motivazione ufficiale che giustifichi l'esclusione della lista collegata ad Emiliano, si ipotizza la non validità delle firme dei candidati, malgrado siano state apposte davanti ad un pubblico ufficiale nel comune di Margherita di Savoia. Intanto i referenti della stessa annunciano ricorso al Tar. È stata ammessa invece la lista di centrodestra che sembrava in bilico a seguito di un errore procedurale che il responsabile dell'ufficio elettorale ha ritenuto evidentemente non rilevante. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'approvazione della procedura di via alla valutazione di impatto ambientale necessaria ai fini del progetto di completamento dei lavori della tangenziale Ovest di Andria. Procede così il lungo iter burocratico che porterà all'avvio dei lavori di completamento dell'opera pubblica che interessa circa 9 km di strada in corrispondenza dell'intersezione con la ex statale 98 fino al raddoppio in fase di realizzazione nel territorio di Canosa. Tutti i dettagli nel servizio di Marilena Pastore. Per la tangenziale Ovest di Andria c'è l'ok del Consiglio dei Ministri alla procedura di via a valutazione di impatto ambientale. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scorso 15 ottobre il via libera alla prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di completamento dei lavori della tangenziale Ovest di Andria. La provinciale 2 dal km 43-265 al km 52-295 nel rispetto però della prescrizione del Ministero dei beni e delle attività culturali per la distanza di almeno 50 metri dal trattorello 94 via Traiana. Dunque procede il lungo iter burocratico avviato nell'anno 2013 che porterà l'avvio dei lavori di completamento dell'opera pubblica che interessa circa 9 km di strada in corrispondenza dell'intersezione con la provinciale 2 ex 231 sino a superare via Canosa e innestarsi con l'altro raddoppio in corso di realizzazione sino a Canosa di Puglia. I lavori ricordiamo furono aggiudicati ad agosto 2014 alla ditta barlettana Doronso Infrastrutture SRL per un importo di circa 27 milioni di euro. Lavori non graditi a lega ambiente che aveva sottolineato come il progetto di completamento della tangenziale Ovest di Andria prevede la costruzione di una bretella stradale a quattro corsie lunga circa 9 km lungo un nuovo tracciato che attraversando l'agro a sud ovest della città produrrebbe interferenze e in sostanza degraderebbe un'area agricola produttiva di pregio ricca di elementi di valore culturale, paesaggistico e naturale. Il 15 ottobre appunto il via è libera da parte del Consiglio dei Ministri.